Siamo qui nell'ex deposito Cotral occupato dai Rom, questa mattina, oggi è 10 maggio, si sono finalmente decisi a operare uno sgombro che è dato da un sequestro per il recupero del bene a Cotraspa. Dopo parecchie pressioni fatte da noi, dall'associazione di quartiere, siamo arrivati, diciamo così, a vedere finalmente lo sgombro di questa struttura, il problema è adesso sapere dove andranno queste persone, perché il problema non è fare lo sgombro della struttura o il sequestro, il problema è dove vanno a finire, per quanto ci riguarda se sono cittadini stranieri dovrebbero essere immediatamente espulsi, penso che purtroppo invece verranno semplicemente spostati da un'altra parte. Allora, praticamente hanno liberato da là e stanotte hanno provato a entrare qui dentro, capito? Cioè si hanno provato a spostare così internamente. Però un giornate ci dovete fare un modo di lavorare, non lo? Sì, sì, no, noi ci arriviamo adesso. Oh, buongiorno, buongiorno. No, ci spostiamo subito. Penso che abbiamo bisogno di vedere il nostro intento, quello di oggi.